Perché il pubblico dovrebbe volerti nuovamente qua? Sono agitato Allora io direi una cosa, caro pubblico di Occhio Pavese che ci state guardando in questo momento Forse un motivo per farlo tornare qua è proprio per questa genuinità e l'emozione che ha portato sul palco E quindi caro Adri, questo è il tuo video appello, va bene? L'ho fatto io per te Perfetto, grazie Grazie mille, un applauso ad Adri Se vuoi ripescare questo talento, clicca ora mi piace al post originale del video oppure condividilo